Sono Corrado Mizzoni e sono responsabile digital acquisition nell'ambito mercato di A2A. È un'azienda estremamente proiettata al futuro. Vediamo l'innovazione come qualcosa da perseguire quotidianamente. Nell'ambito del digitale significa utilizzare sempre più diversi canali per mettersi in contatto con l'utente. Da un punto di vista di prodotto significa creare prodotti a corredo, a valore aggiunto e significa anche un'attenzione verso l'ambiente e la famiglia, quindi proprio alle persone, al fianco delle persone. Per me prendermi cura dei clienti significa fornirgli il massimo di quel che cercano nel minor tempo possibile, ma soprattutto interpretare quello che poi successivamente richiedono e tradurlo da un punto di vista strategico e acquisitivo all'euro digitale. Anticipare i bisogni di un cliente è forse il 100% dell'obiettivo quotidiano. Le mie sfide professionali per il futuro posso sintetizzarla in una e macro, consentire agli utenti e clienti di mettersi in contatto con noi in ogni momento, dovunque essi siano.